Alle 18? E che va a fare vacanza, mate? I can't believe that I can move my hands and feet, all on my own! I can't believe that I can move my hands and feet, all on my own! I'm certain I'm durable! Let's go for the level 3, we're gonna go... Level 3, let's go! Level 3, let's go! Oh, what do you do? buono bello danni ti presi così a caso abbiamo fatto oh fia prezioso ora ti diamo pure Fiora vedete questa era un po' così Fiora mo tipperà sicuramente per lo svantaggio del tp che comunque non è male non è vantaggio di skill si regaliamo ok mo le freeza ci sta resta di mezzo dici rumia non esagerazione no not un topside not un topside non solo è forte contro tf non è Ok, è andato un po' add questa cosa di CS, però va bene, infatti ho preso la kill iniziale. Ok, è risultato bene, andiamo a guardare anche di qua, intanto notto dovrebbe essere bozzato in teoria, ho preso pure la kill su Natrius, flash up quindi, è raggatato trash, si è bugata Gwen, ok si è sbaggato. Buono, questo qua vedremo, fa pure il 6, l'empto io non penso che riesca a fare, diciamo di nuovo legna il tap poi. Ah, la scienza prima di me addirittura. TF bot. Ma solo a me quando Gwen usavo più boi all'inizio di Fili di S.L. quando entrano i miei guest? A me non mi sembra, devo essere sincero, però manco me la ricordo. Ok. 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 Ma vai, oh, ma che fai? Ma che cazzo fai a Sanatlus? Fuo, però. Ma, bravo. Ma. Era double, chi se no lo uscio prima. Regalo, se no vado off time. Vabbè. Non so come sono andato in quel gank. Come non sono morto, mentre ho aspettato di fare l'apposta. Sono stati dei geni in game, hai capito? Ah, guardate, l'ultimo attacco del minion è un po' real. 23 HP descarto. Dimmi te. 23 HP descarto. Se viene in Octane, si aspetto sia ai Voidcraft, sia nei tab, guarda il numeretto. Qua, dici? Che numeretto è questo? Dei minion? Perché questa è un po' homo? Ma che homo, i tanelcini. Ho fatto crescere un po' i capelli nel chilling. Va bene, va bene. Da voi però troppo pusciata, quindi lei ti deserto adesso. Basta non perdere XP, per favore. Ok. Usciamo anche qua. Sempre prima di me lì se vogliamo pusciare, perché sono quelli che tankano di più, quindi... Penso che regalerò, nel senso pusciare più di così. Quello vicino alle torri... Ah, ok, questo qua. Minchia. Tra l'altro Nocturne TF è una bella combo, veramente. C'è un 3 vicino alle torri? Nocturne comunque è un coglione. Questo Nocturne è veramente... D'anni si chiama pure. Facci dietro, ma... Mamma mia. C'è un 3 sulla tab. Ah, qua, ok. Ah, se c'è nessun numeretto... Buon appetito. Buono. Ok. Casino qua sto game eh. Dove c'era? Bredou, 3 di p. Oh, my bad. Famo sti void. Tutti dobro, però c'è molto veloce con la diametria che si resetta pure. Mi ha apparato tutto. Mi ha apparato tutto, l'ultimo hit. Alla. Tutto a posto, tu che dici, tutto bene? Sono un paletto stamattina. Facciamo un hit maker, troppo importante per chiudere. Prendere un altro, forse due playtrend. Va bene così. Dovremo battarvi contro quel team, se no me. E via. E via. Ok, va bene così. Oddio. Sto no, io finora ne do già una, ragazzi. Ne do già una. Ce l'ho riuscita da sto silver, dai. Pian piano ci uscirai tu. Inevitabile, mica ci potresti stare sempre. Buono. Buonissimo. Girognano loro. Sono un po' di lunniti, Fiora. Diretta in un po'. Ma ritrova le balle. Signor BK. Quei mesi più importanti. BK. È vero che non siamo da tanto tempo, ma mi sembra stato che si è già scordato qualsiasi mese più importante. Ribbenvenuto nei cani di canes, ora. Welcome back, BK. 34 mesi, grazie mille. Ma sì, siamo più in prima o poi tanto, prima inizia la tra-sison tra l'altro, no? Quindi, c'è tempo. Eh, ci credo me, ci credo. Poi tu che giochi? Mi do giungla, non mi ricordo. Avevi cambiato ruolo? Mi do giungla molto. Mi cerchi proprio in prima o poi. da lì a. Se c'è una fonte della plate, che ora rimane, ci sta. Buono. TF bot, Nocturne bot side. Eh, rimango qua a puscio a questa wave, perché magari vediamo quella torre. Adesso stanno a scadere, puscio a questa wave e basta. Tanto se Nocturne ultima faccio la top point, io non puoi targetarmi, giusto? Conveniente con me? Ah, le flexi mid delle jungle, è vero. Questo è interessante, che buildiamo adesso? Shadowflame? Non ha sciuto tutto o mi dispiacerebbe contro quel timbro? Questa è la Shadowflame ancora meglio. Hai toccato il gap a mid. Dici di Andri è meglio addirittura. Che combo è? L'ho giocato per un periodo di FAT top. Prima di partire. Stavo stendo a rigiocarlo. Guarda, di chi? Rumi dice di Andri. Che combo è, Rumi ha? Non c'ho ancora dei danni perché l'ATF. c'è. C'è istante, dico. C'è istante, dico. Per me l'importanza adesso non è più l'ATF. Qua c'è la world, andiamo levata, l'anzosina pink, no? Huge. Bella, vedi? Ovviamente lo killavamo. L'importante è che non avessi potuto ci stare su piena sottotore. Stava qui, non avremmo mai killato perché c'era il rotatore vicino. Se non c'è più l'ATF, lo killiamo. Agali, secondo me, è troppo... È troppo complicato da utilizzare per quello che ti dà. Cioè, secondo me non ha senso imparare Agali. Per quello che ti dà è meglio imparare altri campioni, capito? Se tu la giochi perfettamente, Agali fa molti danni, ma se la giochi un po' a me non si concretizza. Quindi secondo me è molto meglio giocare altri campioni che Agali. Qua se me lo killano uno, no? E noi fanno il drago. Cioè, che combo è questa Arumia con l'Aliandri? Però così la nasce tutto e non me la buildo più. Non prende il rosso Natlus, eh. Eh. Non prende il ovo meno di altri campioni in fronte. Dov'è la topa Ma che è? Ma che fa sto campione? Boh No Pauro Df Fa cosi minchia, the sun! Is the sun shining? A Geniveroo! Pauro, t'apposto? Non mi ricordo, sinceramente In Catania, in Catania In Catania, it is shining The sun is still shining La Q scala, occhio a 235 stack Ok Non so quale sia la Q, però C'è cosa che sta più attento Giochiamo un bot side noi Fiora, che cazzo fa? Minchia che pigna! Minchia che pigna! Non arriverà mai qua fino al TF, no? Molto passivo sta Buono, boys! Grazie per supportarmi sempre! Apprezzo Apprezzo Un po' di danettini qua Il nome del Sol, eh sì In back L'imperenzii abbiamo fatti C'è la vuole giusarmi? Mi ha distrutto Mi ha distrutto No, short tooth Non mi dispiacerebbe da build'A' Però contro quel team Pure, secondo me, sarebbe più Danno dritto C'è una bella Shadowflame Una bella Shadowflame No, forse Una Cosmic Drive Una Cosmic Drive, direi Vai Unlucky E poi c'è un hit La scena di 5 secondi Da ogni punto in 3 secondi Se scendi sotto Mi sembra una esagerazione sto Sto Nashor, ragazzi Non penso che io la possa ripare Death now Io arrivo Un altro fino a peso in grab Io ancora devo capire sta combo Con la Liandri Tocca una prenda per il top almeno Questo è l'obiettivo C'è il Drago tra poco Però il Drago pure da fa' Perché sennò è il loro terzo Cosa cazzo i nostri Sicuramente non vogliamo un terzo Drago nelle loro mani, no? Inoltre 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 Che gherla C'è qualcosa che non mi torna qua comunque Come facciamo questo fight? Due erano su di me Ho permesso di essere in maggioranza da un'altra parte, no? Oh, oh Non c'ho niente Potremmo non essere peccato io là Anche se non si c'è uno Non le ho rientro Vabbè Inoltre Ish ok Tocca a stare attenti adesso, però Fanno il Baron sicuramente Questi stanno a beccare i nostri Ma che fanno? Soul dove vai? Eh, stanno prendendo il nascio Sì ragazzi C'è un'altra parte L'altra parte C'è un'altra parte C'è un'altra parte Il L'RIP Niente Niente Eh ma potranno canto il feta Comunque fiero io lo do un po' d'hp Non c'ho la ulti TF stava lì un po' così Dibbante Non hanno visto stanza dal mito Ovviamente che erano in giro da me Comunque fiero senza ulti è abbastanza inutile Andiamo topside Fiore adesso mi chiedono un 1 penso Penso proprio di sì Cresti di Vayne molto bello sì Stato clean Clean as fuck Il Cresti di Vayne Che F inside Contro di me proprio Non ve lo potrò mettere Chi non lo piora? Buono Mamma mia che culo Buono 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 colaccio df sta bello bene chi vediamo adesso zonia penso sia huge buonissimo disgazzer gioca 187 187 orca madonna guarda che culo perfetto morco dio va bene va bene va bene ok it's ok non c'è più anti healing manco i night c'era voi i night no si ce l'avevo no per minuti non c'eravamo mai invece di san fiora vabbè ma è normale è fiora lì è normale che sia così il rumor mi ha detto che la redaction fa schifo quindi non l'ho buildato in questo momento del game no non in questo game ma in generale di league of legends che la redaction non è worth la build quindi non l'ho buildato sol per loro arrivo vediamo se riusciamo a fredarla questa oh il trash ha trovato qua il villallo oh no in game 20 secondi posso finire in game un audio sul t-up o l'ho usata questo è un po' un coglione non c'è un coglione ma il metri io No, no, no. Oddio i minion Alla che bro La vita è dura Forse avrei stancato i minion all'inizio Siamo tornati Riccardo Baron tra 20 secondi Ai 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 Quando è nascendo sicuramente Toccando a tutti i timidi e basta Non se ne fa wow Ma perché io non so non prendere Extech Portal Park, madonna Non capisco Io ho finito il game, amica mi frega La struttura è valuta Qui è Matti Rossi grazie al follo Ci portiamo a casa questa vittoria Bring it home, bring it home The top king, the pressure The antithamble, the sprint push The dog of the dogs Proprio lui Buono, buono Più 21 punti Più 21 punti Più 21 non è male Che hai messo? Press tab Press tab